chi oggi si reca a trieste può vedere tanta tanta storia italiana si può già cominciare la piazza unità d'italia lì vicino c'è il molo audace dove attraccò il cacciatorpediniere audace la prima nave italiana a entrare a trieste nel novembre del 1918 ma non solo ci sono davvero tantissimi luoghi che raccontano le varie epoche dell'italia dai romani in avanti c'è anche un luogo un luogo di dolore un luogo oscuro un luogo che raccoglie le sofferenze di migliaia di persone che li sono transitate e molte di queste sono anche morte in maniera orribile questo luogo è nel rione di servola esattamente a valmaura avete presente la zona dove ci sono gli impianti sportivi il vecchio stadio grezzare il nuovo stadio rocco il cupolone dell'allianz dome ecco esattamente in quella zona lì alle spalle di questi impianti sportivi c'è un luogo diverso un luogo non dimenticato per fortuna ma che a volte vorremmo forse dimenticare per quello che è successo là dentro è un ex impianto per la pilatura del riso è la risiera di san sabba la risiera nasce come appunto impianto per la pilatura per curare il riso per ottenere il riso poi da distribuire a livello alimentare ma la risiera diviene tristemente nota dopo l'otto settembre del 1943 quando trieste ma non solo trieste tutta la zona della venezia giulia e buona parte del friuli vengono incorporati nel reich germanico diventa la zona operazioni del litorale adriatico sotto la diretta responsabilità di un uomo che era triestino di origine ma che si sarebbe macchiato dei peggiori crimini con la divisa nera e i fulmini gemelli sul collo odilo globochnik per alcuni globus un uomo che a trieste ha lasciato una doppia eredità una è la il complesso della cosiddetta klein berlin un piccolo complesso di bunker antiaerei scavati nel sottosuolo che ancora oggi sono visitabili l'altro è appunto la risiera di san samba che sotto la direzione di globochnik diventa un campo di concentramento per alcuni quasi un campo di sterminio perché è presente un certo periodo un forno crematorio ma possiamo dire che gran parte degli storici non propendono per la definizione della risiera come fernittum slager cioè come campo di sterminio è più un kz un concentrazione lager cioè un campo di concentramento destinato ad accogliere partigiani ebrei contestatori qualunque categoria di persone che rientri nel lunghissimo enorme elenco dei nemici del reich nazista l'elenco come detto è lunghissimo e le porte della risiera si apriranno dal settembre del 43 fino all'aprile del 45 per tantissime persone diverse alcune di queste riusciranno anche a uscire sulle loro gambe lo dovranno in parte alla volontà di degli organi di polizia triestini rimasti fedeli alla rsi e in parte sotto sotto ancora fedeli a giuramento al re e in parte in grossa parte al vescovo di trieste di quegli anni monsignor santina che si adopera per far uscire diversi detenuti da quel lager terribile un lager in cui pur non essendo destinato alla eliminazione fisica delle persone è un lager in cui si muore si muore come si muore per le percosse viene utilizzata anche una mazza ferrata per dare il colpo di grazia ai prigionieri si muore per fucilazione si muore per impiccagione si muore per frustate si muore per tortura non c'è la camera gas ma anche se la camera gas fissa non c'è vengono attrezzati dei gas wagon dei furgoni modificati con il tubo di scarico che porta i gas esausti dal motore all'interno del cassone posteriore dove vengono ammassati i prigionieri si muore in tanti modi alla risiera di san sabba e nessuno di questi può essere definito un modo umano di morire a volte si muore addirittura gettati vivi tra le fiamme del forno crematorio un forno crematorio che oggi non c'è più se vi recate in visita alla risiera ne potrete vedere i contorni sul muro perché la notte fra il 29 e il 30 aprile del 1945 i tedeschi in ritirata fecero saltare col tritolo quell'enorme forno che una volta si trovava adagiato ad uno dei due edifici del complesso principale della risiera fecero saltare per cercare di cancellare le prove dell'orrore come avrebbero fatto in tanti altri posti dell'orrore in giro per l'europa ma tra le macerie poi sarebbero stati trovati i crani delle vittime le ossa delle vittime in mezzo alla ceneri in mezzo ai mattoni qualcosa che non si può chiaramente cancellare nel forno crematorio si moriva anche gettati vivi è il caso di alcune donne partigiane staffette catturate portate alla risiera imprigionate percosse torturate e infine gettate tra le fiamme dell'alto forno una morte orribile ma si moriva come detto anche per impiccagione o si moriva per asfissia all'interno di celle minuscole in cui si del freddo con la bora pungente che invadeva lo stabilimento ad ogni inverno ebbene la risiera per oltre un anno e mezzo diventa un simbolo di morte chi entra la risiera è fortunato se esce sulle proprie gambe è molto fortunato la maggior parte di chi entra la risiera o muore lì o viene fatta transitare in convogli ferroviari destinati a mauthausen treblinka auschwitz i nomi peggiori dello sterminio nazista si stima che nella risiera di san saba siano morte circa 3500 persone non ci sono purtroppo dati precisi visto che tedesca è ritirata oltre a far saltare il forno crematorio diedero alle fiamme tutto l'archivio della risiera era un altro modo per cercare di cancellare quello che avvenne là dentro l'orrore di quello che avvenne là dentro ma non si può cancellare la memoria non si può cancellare un simbolo non si possono cancellare i muri le celle e tutto ciò che è rimasto della risiera che oggi è diventato un monumento un monumento che racconta un periodo molto molto buio della nostra storia non solo come italia ma come umanità oggi che si ricorda la liberazione di auschwitz con il giorno della memoria parliamo della risiera perché in fondo è la traccia tangibile visibile visitabile di ciò che è stato l'orrore del nazismo sulla pelle viva dell'essere umano nel nostro paese non ci sono altri luoghi in italia come la risiera di san samba per fortuna non ci sono anche se ci sono stati altri campi concentramento altri campi di transito ma come la risiera nessuno chi c'è stato ricorda sicuramente l'ambiente tetro cupo i soffitti bassi la luce fioca il cortile enorme dove una volta c'era il crematorio e dove oggi c'è una stele che lo ricorda così come la ciminiera che un tempo eruttava quel fumo scuro denso con quella cenere appiccicosa la cenere fatta di grasso umano la cenere immorale innaturale entrare nella lisiera cambia la vita cambia perché si guarda la sofferenza con occhi diversi è una sofferenza difficile da accettare non è la sofferenza della malattia è la sofferenza della tortura della privazione della cattiveria ci si domanda come sia stato possibile trasformare un luogo che doveva servire a nutrire l'uomo in un luogo per far soffrire e uccidere l'uomo sono le grandi storture della dell'umanità stessa le grandi contraddizioni un'altra contraddizione seppur abbastanza strana il fatto che la risiera abbia avuto una seconda vita una seconda opportunità non più di tortura ma di vaga speranza poco dopo la fine della guerra con l'esodo di striano con tanti profughi che venivano ospitati temporaneamente centro d'accoglienza allestito proprio nella struttura della risiera anche questo è uno simoro un qualcosa che facciamo a comprendere perché d'altronde un centro prima di produzione poi di distruzione poi di vaga molto vaga speranza è come una sorta di circolo della vita ma un circolo un po pazzo della vita la risiera ormai da tanti 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 anni dal 1965 è un monumento nazionale è un testimone del tempo è un testimone delle assurdità del tempo la risiera ha anche visto dei processi i processi a chi quella risiera l'aveva materialmente diretta non audilo globosnik che ovviamente è scomparso già ben prima del processo alla risiera il processo nel 1975 chiuso nell'aprile del 76 riguardava invece chi quella struttura l'aveva diretta appunto materialmente chi aveva ordinato la dentro le incarcerazioni le torture le deportazioni le uccisioni il comandante della risiera joseph oberhauser e il suo diretto superiore nella polizia nazista di trieste l'avvocato allers allers tra l'altro la sua posizione viene stralciata all'interno del processo perché muore poco prima dell'apertura del processo stesso e comunque è assente è in contumacia come oberhauser oberhauser verrà oltretutto riconosciuto colpevole sia in primo che in secondo grado ma non sconterà mai un giorno di galera perché perché gli accordi italo tedeschi sulla sulla estradizione garantiscono una sorta di impunità agli ex criminali nazisti non possono essere tradotti in italia e incarcerati in italia per fatti antecedenti il 1948 cioè la data della firma di quei famosi accordi oberhauser infatti resterà in germania a casa sua monaco di baviera gestendo la sua birreria che ha aperto dopo la fine della guerra morendo a 65 anni per un attacco cardiaco nel suo letto un'altra grande ingiustizia un'altra grande assurdità della guerra chi ha commesso dei crimini non ne risponde materialmente cosa resta oggi in questa giornata che da anni giustamente viene dedicata al ricordo della grande follia della persecuzione dell'essere umano contro un altro essere umano restano i muri rossi di mattoni della risiera di san sabba restano le celle della risiera resta il museo interno resta l'ombra di quel forno crematorio che non esiste più di quella ciminiera che non esiste più resta la possibilità di varcare quelle porte non come prigionieri ma come visitatori consapevoli di quello che è avvenuto là dentro resta il dolore che possiamo solo immaginare di chi ha vissuto l'esperienza della risiera resta la volontà decisa affinché tutto quello che è avvenuto là dentro non debba mai e poi mai ripetersi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti